Presentato a Varese Stella del Sud, docufilm che verrà dedicato a Pietro Anastasi, il campione certo, ma anche e soprattutto l'uomo e i suoi valori. Ricordiamo un campione, una persona che ha rappresentato un punto di riferimento per la città di Varese e non solo, ma anche per tanti italiani che poi sono emigrati negli anni 60 in quel di Torino, dove ha indossato una maglia importante. Presente Roberto Bettega, ex compagno di campo e amico di Anastasi. È una persona che mi ha aiutato moltissimo a crescere anche, oltre che capire che cosa era essere un professionista, giocare nella Juve, per me è stato importantissimo e ho sempre un ricordo che non è lunghissimo negli anni, perché per tanti motivi, però è stato determinante proprio perché è iniziato a 19 anni. Il film nasce da un'idea dello scrittore Antonio Zamberletti e sarà diretto da Marco Pozzi, convinto della forte varesinità dell'opera. Che nasce a Varese e che chiede a Varese, al territorio di Varese, di essere presente anche dal punto di vista del sostegno economico a questo progetto importante per il territorio. Produzione di Maurizio Manni per un progetto che Varese sostiene convintamente sul fronte culturale, affettivo e logistico. Un buon momento per ricordare la vita di uno sportivo in signe, ma anche per ricostruire un capitolo della storia del nostro paese, focalizzandoci sulla città di Varese. Siamo contenti come comune di sostenere questo bellissimo progetto.